Oggi è una giornata di esporto a Marsala. Il Cone ha portato qua tutte le attività sportive che si possono fare. Noi abbiamo messo a disposizione questo nostro posto, che è uno dei posti più belli di Marsala della Sicilia, direi. È un parco ripulito e ridato alla cittadinanza, dove i bambini si sono divertiti, hanno giocato, hanno conosciuto questo posto e penso che diventerà anche per loro e per tanti altri cittadini più grandi poter utilizzarlo, giocare, correre, giocare a pallacanestro, come vediamo, schermo, fare tanto. È un parco per tutti quelli che vogliono stare all'aria aperta, è un posto sicuro e tranquillo e divertisse. Siamo stati contenti oggi di ospitare il Cone Provinciale Trapani a Marsala, questa manifestazione che loro ci hanno chiesto per tempo e noi siamo stati felicissimi di mettere a disposizione il nostro parco naturale, che è quello della Salinella, che ormai si presta benissimo a tutte le attività sportive, quindi tutto quello che vogliamo fare. Tutte le società ci apprezzano in questo momento perché hanno visto che questo parco si presta moltissimo a tutte le attività. Infatti, come vedete, oggi abbiamo fatto schermo, pallacanestro, calcetto, pallamano, reggae, c'è un po' di tutto. Quindi siamo veramente contenti di averli ospitati e di aver fatto questo grande figurone perché oggi c'era qua tutta la provincia e la provincia vuol dire che significa Marsala, significa turismo, significa portare gente a far conoscere le nostre bellezze. E cercheremo di organizzarne ancora anche perché vogliamo andare avanti su questa strada che abbiamo visto che è una strada che porta la città di Marsala sempre più in alto. Grazie a tutti, grazie specialmente alla delegata del CONI, la signora Elena Vallone, che veramente si è dimostrata eccezionale anche dal punto di vista organizzativo. Quindi grazie a tutti e cercheremo di organizzare ancora di più, ancora eventi di più giorni, come mi sono ripetitivo, ma perché la città di Marsala deve tornare ad essere la città dello sport. Sono abbastanza soddisfatta di essere qui a Marsala e ringrazio il sindaco, l'assessore Baiata, tutta l'amministrazione e tutte le società sportive che hanno aderito alla giornata nazionale dello sport. Marsala ha dato un segnale forte, un segnale di grande partecipazione e ha rispettato in toto la tematica di quest'anno. Lo sport difende la natura e quale posto e location più bella ha potuto offrire la città di Marsala? In questo luogo 13 ettari di verde pubblico destinato alle attività sportive. E soprattutto penso che la giornata di oggi debba essere una giornata che debba costituire da volano per iniziative future. Lo sport può e deve abitare gli spazi verdi della città e sono certa che l'amministrazione, i cittadini di Marsala e le associazioni sportive riusciranno a dare delle risposte concrete e potranno soffrire di questo bene meraviglioso che hanno proprio dentro la città.